...e 10, da Limpala e Benotti. Ma l'altro, ma l'altro è venuto a fare un altro applauso, perché Limpala e Benotti è diventata la penata. Dopo, a premiare, a consegnare la pedaglia, a ricordare il Presidente della Populazione Italiana, per cui la legge ha un risolto a più giovani. Che al centro non mi sta, eh? Come fa? Grazie. 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 Mi dispiace di non poter essere io con voi oggi, ma sono in Svezio, che è la città del mondo, e ringrazio un po' per essere stata nominata un'atleta del grande giallo giallo. E... Speriamo che anche quest'anno sia in questo punto delle spazioni e la propria essere con voi i prossimi anni. Ciao a tutti. Grazie. 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 Tanti gli atleti delle chiave gialle delle sezioni giovanili di atletica, di moto, di canoa, di canottaggio e degli sporti internali che hanno conquistato un titolo italiano, oppure ancora meno, che hanno detto anche dei risultati a livello internazionale. Sono qui presenti in sala. A loro non basta veramente un applauso. Noi ne abbiamo scelti due che verranno qui a ritirare il premio dalle mani del presidente del CONI Giovanni Navarro. Si tratta di un figlio d'arte che è stato capace di vincere l'argento ai campionati europei e il bronzo ai campionati mondiali di Uniones nel cantaggio, Matteo Sartoni. Grazie. 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 Grazie.